Ben ritrovati nella redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. Il bivio a 12 a 15 parma la Spezia in direzione Genova. Per lavori fino a venerdì 10 maggio il raccordo siena Firenze sarà chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Poggi Bonsi Sud e Colle Valdelsa dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo. Cantieri al via Firenze in settimana in via Colluccio Salutati, via San Bartolo a Cintoia e in via Pietraia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!